Torniamo ancora una volta ad occuparci della Lega del Filodoro di Osimo perché è partita ormai all'incirca da un mese la nuova campagna istituzionale Astag Un Filo Prezioso, realizzata con due testimonial ed eccezione. Ne parliamo appunto con il presidente Rossano Bartoli. Quali sono questi due amici storici della Lega del Filodoro? Gli amici sono Renzo Arbore, testimonia della Lega del Filodoro da oltre 30 anni e Neri Marco Re che lo ha affiancato, lo sta affiancando ormai da 8 anni. È una nuova campagna proprio dove insieme testimoniano la vicinanza nei confronti di bambini, giovani, adulti, sordociechi e con pluriminorazione psicosensoriale e diciamo esprimono questo bisogno di continuare a star loro vicini, ad essere appunto di sostegno, sostegno concreto per assicurare loro una migliore qualità di vita, per assicurare loro una possibilità di comunicare col mondo esterno a partire dai loro genitori, per essere autonomi in quelle che sono le azioni della vita quotidiana e per intraprendere un cammino ciascuno in funzione delle condizioni in cui si trova che assicuri loro una presenza attiva nella vita di tutti i giorni e quindi di vivere in modo più dignitoso e assicurando quindi una qualità decisamente superiore e importante per loro e per le loro famiglie. È importante offrire quindi un'assistenza adeguata ma lo è ancora di più investire nella ricerca? Certo, la ricerca è fondamentale anche nel nostro settore noi negli anni ci siamo dedicati molto all'utilizzo delle tecnologie assistive ossia quella tecnologia che oggi è a disposizione e che può essere con accorgimenti utilizzata anche da chi ha molte difficoltà nel relazionarsi, nel comunicare col mondo esterno quindi da questo punto di vista stiamo lavorando intensamente, periodicamente organizziamo incontri anche ad alto livello, a livello scientifico dove appunto si propongono quelli che sono i risultati e si presentano quindi i risultati dell'attività di ricerca e si diciamo promuovono studi ulteriori per andare sempre di più ad aiutare persone in gravissima difficoltà. Un appello che si sente di fare a tutti coloro che ci stanno ascoltando qual è? L'appello è quello di continuare ad esserci vicini, noi siamo cresciuti come organizzazione grazie alla solidarietà grazie a tantissimi italiani, migliaia di persone che hanno deciso di darci i loro contributi e di seguire il cammino di sviluppo che la Lega del Firo d'Oro sta portando avanti ecco noi auspichiamo che questa diciamo vicinanza concreta possa sicuramente continuare e aumentare perché solo così potremmo andare incontro ai bisogni di altre persone.